Buongiorno e pace di Gesù Cristo a te e che Dio ti benedica immensamente. In questo video continueremo a trattare il libro che ho iniziato a leggere e studiare, il libro dal titolo Che farebbe Gesù? Allora posso dirti una cosa, essendo che lo sto leggendo, lo sto considerando, lo sto meditando, è un libro che sta parlando al mio cuore in un modo particolare e credo che stia parlando al mio cuore affinché anche tu possa conoscere questi pensieri, questi principi che hanno animato le persone che sono coinvolte in questo libro, quindi i protagonisti di questa storia. Nel primo studio, diciamo, nel primo video che abbiamo da poco ascoltato e studiato abbiamo notato un particolare meraviglioso, ossia che quando Gesù parla al cuore di qualcuno le cose cambiano. Così è successo al pastore della chiesa di Raymond, il pastore Maxwell, che attraverso la strumentazione di una persona, Dio parlò al suo cuore e la sua vita cambiò e non solo la sua, ma cambiò anche la vita di molti dei credenti della sua comunità. Perché, faccio un breve riassunto, lui alla fine del culto, poi magari se ti fa piacere puoi andare a guardare l'intero video precedente così potrai capire meglio di cosa stiamo parlando, però alla fine del culto il pastore fece questo appello, voleva incontrare tutte quelle persone che avevano deciso di prendersi un impegno davanti a Dio e l'impegno era questo, che per un anno di fila qualsiasi cosa loro abbiano avrebbero pensato, qualsiasi cosa che avrebbero dovuto decidere, qualsiasi cosa che avrebbero dovuto fare o non fare, si sarebbero dovuti riporre questa domanda, cosa farebbe Gesù e avrebbero dovuto aspettare la parola del Signore, quindi l'ispirazione data da Dio in base alla loro richiesta e infatti è successo qualcosa di meraviglioso. La prima storia che abbiamo ascoltato era quella del direttore di questo giornale che ha deciso di togliere tutti quegli articoli e tutte quelle inserzioni dove si parlavano di cose che era meglio non parlarne e ovviamente c'è stata una perdita enorme, moltissimi degli abbonati hanno rinunciato all'abbonamento, moltissimi membri del paese hanno criticato il direttore e il suo giornale per queste scelte improvvise che sono accadute e ovviamente abbiamo considerato questo, che quando si decide di prendere la croce e seguire Gesù le cose iniziano a cambiare e molto spesso le persone iniziano anche ad allontanarti, a non capirti, a criticarti, ma è così, il credente, il cristiano, colui che decide di seguire Gesù è come un salmone che risale la corrente. I pesci di tutto il mare vanno in una direzione, il salmone invece la percorre al contrario, quindi diciamo che impatta con la stragrande maggioranza di pesci che vanno in una direzione e lui da solo si ritrova a scontrarsi contro tutti questi pesci che vanno incontro a lui e così è il cristiano. Nella seconda storia che ascolteremo, quindi dal capitolo 2 di questo meraviglioso libro che ovviamente ti consiglio di comprare, di leggere perché è stupendo, te lo faccio rivedere, la copertina è questa, che cosa farebbe Gesù e siamo al secondo capitolo e prima di iniziare a meditare questa seconda storia vorrei leggerti il versetto che si trova all'inizio del capitolo. È un versetto tratto dalla prima epistola di Giovanni, capitolo 2, il versetto 6. Dice così la parola di Dio. Chi dice di rimanere in lui, quindi in Cristo, chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Amen? Gloria a Dio. Lo rileggo. Chi dice, quindi chi pronuncia, chi annuncia con la sua bocca di rimanere in lui, in Cristo, deve camminare come egli camminò. Questo è il versetto che introduce il capitolo 2 ed ora ascolteremo una storia veramente meravigliosa. Il personaggio che voglio considerare con voi in questo video è il dirigente di una grossa azienda. Questo dirigente ovviamente aveva come responsabilità sotto di lui tantissimi operai, ma proprio tanti tanti perché l'azienda era molto vasta e lui era una persona che fino a in quel momento si era concentrato sul lavoro, quindi sul produrre, produrre, produrre. Ma è successo qualcosa di meraviglioso anche nel suo cuore quando ha deciso anche lui di sottoporsi a questa sfida, ossia prima di fare, pensare, dire, decidere e quant'altro, domandarsi cosa farebbe Gesù. Lui ovviamente si è posto questa domanda e ha iniziato a chiedere al Signore cosa farebbe verso i suoi operai e ad un certo punto gli arrivò una meravigliosa ispirazione e ovviamente guidata dallo Spirito Santo solamente perché lui ha chiesto al Signore cosa avrebbe potuto fare, lui ha chiesto Gesù tu cosa faresti con i miei operai se tu avessi degli operai, se tu fossi un dirigente cosa faresti e lui ha avuto la risposta da parte del Signore e l'ha condivisa con il suo pastore, il suo pastore è rimasto molto contento di questa iniziativa che ora te ne parlerò e poi questo dirigente ha chiesto al pastore un aiuto. Allora l'iniziativa che lo Spirito Santo gli ha messo nel cuore può sembrarti strana ma è di aggiungere durante tutte le ore di lavoro una pausa per tutti gli operai, una pausa di una buona mezz'ora e nel farlo lo Spirito Santo gli ha consigliato di allestire una sala, una grande sala che prima serviva solamente da magazzino e in questa sala lui ha messo dei tavoli, delle sedie e poi non solo ha messo anche delle macchine da ristoro per l'acqua, per il tè, per il caffè. Ha iniziato a rendere quella sala un luogo dove poter ritrovarsi e in quella mezz'oretta ristorarsi, parlare, scambiare due parole ma in modo particolare fare una pausa, dedicare quel tempo al riposo. Sembra strano ma questo è quello che Gesù mise nel suo cuore. Quindi cosa fece? Convocò tutti gli operai, il primo giorno di questa iniziativa, convocò tutti gli operai in questa sala alle 12 in punto a mezzogiorno e chiese al pastore di venire in quella sala e spendere due parole con questi operai, con i suoi operai. Quindi il pastore è molto emozionato, il dirigente è molto emozionato e quando sono arrivate, era suonata la campana del mezzogiorno. Ecco che tutti quanti insieme si sono ritrovati in questa sala e addirittura pensa che c'erano più di 300 operai davanti al dirigente e al pastore e tutti che hanno ascoltato per la prima volta l'iniziativa del loro dirigente, ossia quella di dedicare una buona mezz'ora al riposo. Quindi attraverso quella sala potevano bere, mangiare, prendere un caffè e quant'altro. Poi il pastore ha fatto la sua, il suo commento, ha fatto la sua osservazione e alla fine tutti questi operai sono andati dal dirigente e dal pastore, gli hanno stretto la mano e li hanno ringraziati per questa nuova iniziativa che secondo molti di loro era utile, serviva perché lavorare solamente è faticoso ma quando viene introdotta una pausa, un momento di riposo, guarda che le cose funzionano specialmente per gli operai e quindi è stata una potente benedizione sia per il dirigente sia per tutti gli operai. Ma ti voglio dire anche un'altra cosa e concludo, ho trovato nella Bibbia lo stesso principio che Gesù ad un certo punto ha adottato con i suoi discepoli. Ti leggo un versetto che si trova nel Vangelo di Marco al capitolo 30 e 31 dove si parla proprio di questo argomento, quindi l'esempio che gli fu arrivato dallo Spirito Santo è un qualcosa che Gesù aveva già fatto, guarda con me cosa dice la scrittura, Marco capitolo 6, Vangelo di Marco capitolo 6 verso 30 e 31 ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato ed egli disse loro venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po' poiché era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Questa è la parola, il versetto che ho trovato inerente a questa questa storia e quindi questo dirigente ha preso l'esempio di Gesù donando del tempo di riposo ai suoi operai. Allora voglio concludere dicendo questo, cosa ne pensi se da oggi in poi anche tu insieme a me e insieme a questi personaggi di questo libro non decidi oggi di iniziare questa nuova sfida? La sfida è uguale ossia qualsiasi cosa dovrai iniziare a dire, qualsiasi cosa dovrai iniziare a fare, qualsiasi decisione dovrai iniziare a prendere da oggi perché non la sottoponi a questa domanda? Ti fermi e rifletti e chiedi allo Spirito Santo cosa farebbe Gesù al posto mio e aspetti la risposta, dopo di ciò ti muovi di conseguenza. Potrebbe essere una potente benedizione sia per la tua vita sia anche per quanti ti circondano perché questo dirigente ha messo a disposizione mezz'ora di tempo libero per gli operai e ne ha avuto un ricavo meraviglioso perché agli operai fa bene il riposo e Gesù lo sapeva, infatti per questo gli diceva ai suoi apostoli avete lavorato tanto? Ora fermiamoci un momento, prendiamoci un tempo per riposarci. Quindi gli stava concedendo del riposo e ti posso garantire che è qualcosa di eccezionale, meraviglioso. Io voglio concludere questa meditazione con un canto, una strofa solamente di un canto che parla proprio di riposo. È il canto numero 261 della raccolta Inni di Lode e si intitola così Il tuo dir, il tuo dire, quindi la tua parola sarebbe il concetto e voglio che se lo conosce lo canti insieme a me. Che ne pensi? Il tuo dir, 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 un dolce conforto nel dolore sempre donà. Parla, parla al mio cuore, parla Gesù, mio salvatore, mio dolce signore, o parla al mio cuore, Gesù. Amen! Questo era il canto che volevo cantare insieme a te. Il tuo dir risana ogni duolo, il tuo dir riposo sa dare. Ascoltiamo la parola del Signore perché in essa possiamo trovare riposo alle anime nostre. Dio ti benedica!